Gas, ho deciso che l'organizzo a modo mio, il banchetto reale. Ogni convinzione può cambiare se lo vuoi. Aprite i cancelli! I tempi corrono, devi adattarti prima o poi. La vera o il legge è inutile di te. E se segui il tuo cuore, lui cambia il perché. Oh, grazie. Vostra altezza, il re non approverebbe di certo. Dovete inviterli perché si conti l'alta aristocrazia. Inviterò anche loro, insieme a tutti i miei amici del villaggio. Vostra altezza, mi permetto di esprimere tutto il mio disappunto. Il vostro comportamento non è contemplato dal protocollo. Prudes, forse è giunto il momento di provare una cosa nuova. Non credere mai di poter rinunciare. Ascolta il tuo cuore, prima a sognare. Il banchetto va modificato a partire dal dessert. Niente prugne! A Jack Jack piace il cioccolato. Budino al cioccolato, è questa sì che è un'idea strepitosa. Ormai non si parla mai così! Vola più in alto e non ti fermare. Non è lì, perché è meglio che stare più sombra a guardare. È contro il protocollo! È assolutamente contro il protocollo! È contro il protocollo! E contro il protocollo, e contro il protocollo, e contro il protocollo, e contro il protocollo. Qua difficoltà, tantina vuole funzionerà, si darebbe al tuo cuore il sole se tendrà.